È da parecchio che do segnali al centro-destra di fare in fretta, ma questo non è che, come ho detto prima, voglio stabilire priorità oppure mordere il freno. Il problema è che noi, rispetto ai 5 Stelle e anche al centro-sinistra, abbiamo un problema oggettivo, cioè che essendo una coalizione dobbiamo pure guagliarla questa coalizione. E quindi nel momento in cui a questa battaglia dovessero partecipare non soltanto i partiti tradizionali, è auspico che partecipino anche tutte le realtà civiche, è chiaro che ci vorrà un periodo di sintesi sia per quanto riguarda le candidature, sia per quanto riguarda i programmi, la strategia elettorale. Ora, è chiaro che siamo arrivati quasi a metà novembre, io ritengo che a questo punto, anche per rispetto di chi giustamente ci dovrà mettere la faccia per quello che riguarda i nostri candidati, è giusto che comunque le candidature che sono state già accertate, stabilite, vagliate, ponderate, è giusto che dia spazio ai miei uomini, alle mie donne. Lei poco fa ha detto che giustamente dovrà essere Fratelli d'Italia a scegliere il candidato come deciso a Roma, Fabrizio Di Stefano ha annunciato ufficialmente la sua candidatura, un'eventuale discesa in campo di più candidati per il centro-destra potrebbe essere penalizzante? Senza ombra di dubbio uno dei politici più esperti, più credibili, più capace che abbia la regione Abruzzo. Però un centro-destra diviso non sia il bene dell'Abruzzo ma soltanto perché ho la percezione a livello dell'elettorato che è questo quello che la gente vuole, cioè che comunque a prescindere da chi sarà il candidato governatore la battaglia la dobbiamo fare tutti insieme perché è l'unico modo di vincerlo. Se quella è la terna e se al di là di quella terna non si esce ognuno la ha delle criticità. Gian Donato è una bravissima persona, è un amico però viene fuori da una sconfitta elettorale, politicamente è un po' usurato. Per quanto riguarda il senatore Marsiglio è una candidatura di bandiera, è un senatore, rappresenta quello che più può rappresentare un concetto di identità, di appartenenza al partito come Fratelli d'Italia. Per esclusione io ho detto che ho conosciuto il dottor Foschi, chiaramente ha dalla sua un deficit che è quello dell'inesperienza politica però ho detto anche due cose, innanzitutto è un medico e quindi sicuramente avrà competenza in quello che io ritengo uno dei settori strategici più importanti della regione, cioè il settore della sanità, quindi ha competenza su questo. Fra i tre ho dato un mio parere e un parere personale, poi a scegliere sarà Fratelli d'Italia e chiunque sarà, chiamiamolo così il precelto, per noi non cambierà una virgola e cioè comunque faremo la nostra battaglia in ogni modo e con ogni mezzo.